Si è insediato oggi ufficialmente il Consiglio Provinciale del Caruso Bis, che si è riunito nella sede comunale di Villa Gioia. Il Presidente della provincia ha già assegnato le deleghe nei giorni scorsi e nella seduta di oggi ha letto il suo documento programmatico. Azioni che più di tutte avranno un'importanza alle direttrici principali saranno viabilità, edilizia scolastica e rapporto con i comuni. 30 milioni di euro, ad esempio, per i ponti, ma misure importanti sono previste anche per le scuole, adeguamento sismico, ricostruzione, ma pure efficientamente energetico. Ma la novità è la Casa dei Comuni. Il Presidente Caruso spiega che sarà costituita per avere un rapporto sempre più significativo con i comuni della provincia e anche per avere una sintesi delle richieste e delle necessità. Certamente la prima azione sarà quella improntata a quel programma straordinario di ripristino e di sviluppo della viabilità del territorio provinciale, che è già connotata di parecchie misure che ammontano importi importanti. Cito per tutti 30 milioni di euro per i ponti, quindi i ponti che hanno rappresentato una criticità per un periodo storico dell'Italia, ricordiamo i morandi per tutti, ed ancora sull'edilizia scolastica ci sono delle misure straordinarie, saranno sia declinate sul piano dell'adeguamento sismico, della ricostruzione, ma anche dell'efficientamento energetico, che è un capitolo attuale, ma un capitolo che consentirà alla provincia di un risparmio notevole di costi di esercizio per le scuole. Per i comuni si istituirà la Casa dei Comuni, che è un luogo dove si celeberà quella intesa, quella sintonia, soprattutto in termini programmatici, tra enti locali e provincia, proprio per recitare quel ruolo intermedio di sintesi per rivolgere nei tavoli di governo regionali e nazionali le esigenze del territorio. In realtà già esisteva l'Assemblea dei sindaci, interrotta a causa Covid, l'azione della provincia servirà in questo senso ad avere un ruolo sempre più incisivo.